San Bernardo di Chiaravalle Sermone primo sull'Avvento Le sei circostanze e caratteristiche dell'Avvento Oggi fratelli, celebriamo l'inizio dell'Avvento Questo nome, come quello delle altre solennità, è familiare e conosciuto in ogni luogo ma non è forse così per il suo significato Gli infelici figli di Adamo trascurano infatti di applicarsi alle realtà vere e portatrici di salvezza e cercano piuttosto le realtà caduche e transitorie A chi sono simili gli uomini di questa generazione? A chi li paragoneremo, vedendo che non possono strapparsi e separarsi dalle consolazioni terrene e sensibili? Sono veramente simili a quei naufraghi che rischiano di venire sommersi dalle acque Vedete come si aggrappano a quello che posseggono e che per nessun motivo abbandonano la prima cosa che capita loro in mano qualsiasi cosa sia anche se è qualcosa che non serve a nulla come radici di erbe o altre cose simili E se qualcuno si avvicina loro per venire loro in aiuto capita a volte che afferratolo lo trascinano con sé così che non può più essere d'aiuto né a se stesso né a loro Così annegano in questo mare grande e vasto così periscono gli infelici Perché seguendo le realtà destinate a finire lasciano perdere le realtà solide aggrappandosi alle quali potrebbero riemergere e salvare le loro vite Si dice a proposito della verità, non della vanità La conoscerete e vi renderà liberi A voi, fratelli, come a dei piccoli Dio rivela le realtà nascoste ai sapienti e agli intelligenti Esaminate con attenta riflessione le realtà che sono veramente salutari Valutate con attenzione il motivo di questo avvento Domandatevi chi sia colui che viene Da dove viene e dove va Perché viene Quando E attraverso cosa viene Questa curiosità è degna di lode e salutare La Chiesa universale non celebrerebbe questo avvento con tanta devozione Se non fosse nascosto in esso un qualche grande mistero Prima di tutto dunque Fissate lo sguardo anche voi insieme all'Apostolo Stupito e ammirato Stupito e ammirato su quanto sia grande colui che viene Secondo la testimonianza di Gabriele è il figlio dell'Altissimo E di conseguenza Altissimo egli stesso Non è possibile infatti pensare che il figlio di Dio sia inferiore al padre Ma è necessario confessare che è uguale a lui in grandezza e indignità Chi non sa che i figli dei principi sono principi E i figli dei re sono re Ma perché delle tre persone che crediamo, confessiamo e adoriamo nella Somma Trinità Non viene il padre, non lo Spirito Santo, ma il figlio Non penso che sia avvenuto così senza un motivo Ma chi conosce il pensiero del Signore o chi è stato suo consigliere La venuta del figlio non ha avuto luogo senza un sublime consiglio della Trinità E se consideriamo il motivo del nostro esilio Forse potremmo intuire almeno un poco La convenienza del fatto che sia stato soprattutto il figlio a liberarci Quel lucifero che si levava al mattino Per aver tentato di usurpare la somiglianza dell'Altissimo Ed essersi attribuito ingiustamente l'uguaglianza con Dio Che è proprietà esclusiva del figlio Rovinò, precipitando all'istante Perché il padre rivendicò la causa del figlio Come se avesse messo in atto questa parola A me la vendetta Sono io che ricambierò Subito vedrai Satana cadere dal cielo come la folgore Perché ti insuperbisci tu, terra e cenere Se Dio non ha risparmiato gli angeli superbi Quanto meno risparmierà te, putredine e verme Lucifero non fece nulla Non mise in atto nulla Soltanto ebbe un pensiero di superbia E in un momento In un batter d'occhio Precipita irreparabilmente Perché, secondo il profeta Non rimase saldo nella verità Vi prego, fratelli miei Fuggite la superbia Fuggitela del tutto La superbia è l'inizio di ogni peccato Essa così rapidamente ha offuscato con la tenebra eterna Lo stesso Lucifero Che risplendeva più luminoso di tutte le stelle Essa ha mutato in diavolo Non semplicemente un angelo Ma il primo degli angeli E così, ardendo di invidia per l'uomo Infuse in lui l'iniquità Che aveva concepito in se stesso Persuadendolo Che se avesse gustato il frutto dell'albero proibito Sarebbe diventato come Dio Conoscendo il bene e il male Che cosa offri? Che cosa prometti, disgraziato? Se il figlio dell'altissimo Tiene la chiave della conoscenza Anzi, è egli stesso la chiave La chiave di Davide Che chiude e nessuno può aprire In lui sono nascosti Tutti i tesori della sapienza e della scienza E tu li ruberesti perversamente Per donarli all'uomo Vedete che veramente Secondo la parola del Signore Costui è menzognero E padre della menzogna Infatti affermò il falso Dicendo Sarò simile all'altissimo E fu padre della menzogna Quando infuse anche nell'uomo Il seme avvelenato della sua falsità Dicendo Sarete come Dei Anche tu, oh uomo Se vedi un ladro Corri con lui Vi ricordate, fratelli Che è stato letto Questa notte di Isaia Che Rivolgendosi al Signore Dice I tuoi principi sono infedeli O Secondo un'altra traduzione Disobbedienti Compagni di ladri Veramente I nostri principi Adamo ed Eva L'inizio della nostra stirpe Sono disobbedienti Obedienti e compagni di ladri Per consiglio del serpente Anzi del diavolo Per mezzo del serpente Tentano di sottrarre Ciò che è proprio Del figlio di Dio E il padre Non lascia passare L'ingiuria fatta al figlio Il padre infatti Ama il figlio Ma reclama immediatamente La vendetta Anche sull'uomo stesso E fa pesare la sua mano Su di noi Tutti abbiamo peccato in Adamo E in lui riceviamo tutti La sentenza di condanna Che cosa farà il figlio Vedendo che il padre Difende la sua causa E non vuole affatto Perdonare alle creature Ecco Dice Per causa mia Il padre perde le sue creature Il primo angelo Cercò di raggiungere La mia altezza E trovò un popolo Che gli diede credito Ma subito Lo zero del padre Si vendicò gravemente Su di lui Colpendo lui Insieme a tutti i suoi Con una piaga incurabile E con un castigo crudele Anche l'uomo Volle sottrarmi la scienza Che ugualmente appartiene a me E neppure di lui Il padre ha avuto misericordia Ne l'ha risparmiato Forse Dio si prende cura Dei buoi Aveva fatto soltanto Due creature nobili Partecipi della ragione Capaci di felicità Cioè l'angelo E l'uomo Ma a causa mia Ha perduto molti angeli E tutti gli uomini Dunque Perché si sappia Che anch'io amo il padre Riabbia per mezzo mio Coloro che in qualche modo Sembra aver perso Per causa mia Se questa tempesta È stata per causa mia Dice Giona Prendetemi E gettatemi in mare Tutti hanno invidia Verso di me Vengo E mi manifesterò In modo tale Che per chiunque Vorrà invidiarmi Per chiunque Cercherà di imitarmi Questa emulazione Riesca a suo vantaggio So tuttavia Che gli angeli disertori Si sono dati Completamente Ad un sentimento Di malizia E di perversità E che non hanno peccato Per una qualche Ignoranza O debolezza Perciò È necessario Che periscano Poiché Rifiutano Di pentirsi L'amore del padre E l'onore del re Esigono la giustizia Per questo Infatti Dio ha creato Gli uomini Fin dall'inizio Perché occupino I posti Che questi Hanno lasciati vuoti E le rovine Di Gerusalemme Siano ricostruite Sapeva che Per gli angeli Non si apriva Nessuna via di ritorno Conosceva Conosceva la superbia Di Moab Che è molto superbo E la sua superbia Non accetta Il rimedio Della penitenza E per questo Non accetta Neppure il perdono Ma al posto Dell'uomo caduto Non creò Nessuna creatura Dando con questo Un segno Che per l'uomo Poteva esserci Ancora redenzione Dal momento Che era stato Fatto cadere Dalla malizia Altrui Gli poteva essere Utile la carità Di un altro Perciò Signore Ti prego Degnati Di liberarmi Perché io Sono debole Perché sono stato Tolto con l'astuzia Dalla mia terra E in questo carcere Sono stato Mandato innocente Non del tutto Innocente In realtà Ma rispetto A colui Che mi ha sedotto In una certa misura Innocente La menzogna Mi è stata Suggerita Signore Venga la verità Perché la falsità Possa essere scoperta E io conosca La verità E la verità Mi libererà A patto che Scoperta la falsità Io vi rinunzi Del tutto E aderisca Alla verità Conosciuta Altrimenti Non sarebbe Una tentazione Umana Né un peccato Umano Ma un'ostinazione Diabolica Infatti Perseverare Nel male È proprio Del diavolo E sono degni Di andare In perdizione Con lui Quelli che A somiglianza Di lui Rimangono Nel peccato Ecco fratelli Avete ascoltato Chi Sia Colui Che viene A questo punto Considerate Da dove venga E dove vada Viene dal cuore Del padre Nel grembo Della vergine madre Viene dal più alto Del cielo Alle più profonde Regioni della terra Cosa significa Cosa significa questo Non dobbiamo anche noi Vivere sulla terra Sì Se però vi rimane Anche lui Dove può essere Del bene Senza di lui O dove potrà Essere Del male Con lui Che cosa c'è Per me In cielo E fuori di te Che cosa ho voluto Sulla terra Dio del mio cuore E mia eredità Per sempre Se anche Camminerò Nell'ombra Della morte Non temerò Alcun male Se però Tu sei con me Ma ora Come vedo Tu discendi Sulla terra E negli stessi inferi Non come un vinto Ma come libero Tra i morti Come la luce Che risplende Nelle tenebre E le tenebre Non l'hanno accolta Per questo Né la mia anima Sarà abbandonata Negli inferi Né il mio santo corpo Vedrà la corruzione Sulla terra Il Cristo Che discende È lo stesso Che anche ascende Per riempire Tutte le cose Di lui è scritto Passò risananza E beneficando Tutti coloro Che stavano Sotto il potere Del diavolo E altrove Esultò Come un gigante Che percorre la via E gli sorge Da un estremo Del cielo E la sua corsa Raggiunge L'altro estremo Giustamente L'Apostolo Esclama Dicendo Cercate le cose Di lassù Dove si trova Cristo Assiso Alla destra Di Dio Sarebbe Inutile Affaticarsi Ad innalzare I nostri cuori Se non ci assicurasse Che risiede Nei cieli L'autore Della nostra salvezza Ma vediamo Ora Quello che segue Infatti Anche se la materia È abbondante E ricchissima Tuttavia La strettezza Del tempo Non consente Di prolungare Troppo il sermone Dunque A chi considerava Chi è colui Che viene Si è fatta Conoscere La sua immensa Ed ineffabile Maestà A chi contemplava Da dove venga Si è aperta Un'ampia strada Secondo la testimonianza Di colui Che Ispirato Dallo spirito Di profezia Disse Ecco il nome Del Signore Viene da lontano E a chi guardava Dove fosse diretto È apparso Un amore Incomparabile E del tutto Inimmaginabile Perché la sublimità In persona Si è degnata Di scendere Nell'orrore Di questo carcere Chi può Dubitare ormai Che ci sia stato In gioco Qualcosa di grande Perché una Così grande Maestà Si sia degnata Di discendere Da tanto lontano In un luogo Così indegno Sicuramente Qualcosa di grande Perché è una Grande misericordia Una grande Compassione Un'abbondante Carità Perché cosa Dobbiamo credere Che sia venuto È questo Infatti Che ora Dobbiamo indagare Secondo l'ordine Che ci siamo Proposti E per questo Aspetto Non dobbiamo Affaticarci Dal momento Che sia le sue Parole Sia le sue Opere Gridano Chiaramente Il motivo Della sua Venuta Si è affrettato A discendere Dai monti Per cercare La centesima Pecora Che era smarrita Ed è venuto Per noi Perché più Chiaramente Si lodi Il Signore Per la sua Misericordia E per i suoi Prodigi Per i figli Degli uomini Meravigliosa Condiscendenza Di Dio Che cerca Grande dignità Dell'uomo Che è cercato Così Se volesse Gloriarsi Di questa dignità Non sarebbe Stolto Non perché Sia qualcosa In se stesso Ma perché Ne ha fatto Tanto conto Colui che L'ha creato Tutte le ricchezze Infatti E tutta la gloria Del mondo E tutto quanto Nel mondo Può essere Desiderato È meno Di questa gloria Anzi Non è nulla Al suo confronto Signore Che cos'è L'uomo Perché tu Lo faccia Grande Perché te ne Dia pensiero Eppure Vorrei sapere Per quale motivo Lui è venuto Da noi E perché Non siamo Piuttosto Andati Noi Da lui Eravamo Noi Nel bisogno Ma neppure È consuetudine Dei ricchi Andare Dai poveri Anche se Volessero Beneficarli È così Fratelli Sarebbe stato Conveniente Che fossimo Andati Noi Da lui Ma c'era Un doppio Ostacolo La nostra Vista Era molto Debole Egli Invece Abita La luce Inaccessibile E Giacendo Come paralitici Nel nostro Letto Non potevamo Raggiungere La sua Divina Altezza Per questo Quel salvatore Colmo di bontà E medico Delle anime È disceso Dalla sua Altezza E ha mitigato Il suo splendore Per la debolezza Dei nostri Occhi Si è rivestito Come di una lampada Quel corpo glorioso E purissimo Da ogni macchia Che ha assunto È la nube Leggerissima E risplendente Sopra la quale Il profeta Aveva predetto Che egli sarebbe salito Per discendere In Egitto È ora Ormai Di considerare Il tempo In cui viene Il salvatore Viene E crediamo Che questo Non vi sfugga Non all'inizio Non a metà Del tempo Ma alla fine E questo Non è avvenuto A caso Ma la sapienza Ha disposto Con vera intelligenza Di recare L'aiuto Per la prima volta Quando maggiore Era la necessità Non ignorando Che siamo figli Di Adamo Inclini All'ingratitudine Già si faceva sera E il giorno Volgeva Al suo termine Il sole Di giustizia Stava già tramontando Così che era tenue Il suo splendore E il suo calore Sulla terra Era molto scarsa Infatti La luce Della conoscenza Di Dio E mentre cresceva La malvagità Si raffreddava Il fervore Della carità Gli angeli Non si facevano Più vedere I profeti Non parlavano Era cessata La loro presenza Come vinti Dalla disperazione A causa Dell'eccessiva Durezza E ostinazione Degli uomini Ma io Dice il figlio Allora ho detto Ecco Io vengo Così Mentre un profondo silenzio Avvolgeva tutte le cose E la notte era a metà Del suo corso La tua parola Onnipotente Signore È venuta Dal suo trono regale L'apostolo Lo intuì E disse Quando venne La pienezza Del tempo Dio Mandò Suo figlio La pienezza E l'abbondanza Delle realtà Temporali Aveva causato La dimenticanza E la povertà Delle realtà Eterne Opportunamente Dunque Venne l'eternità Quanto più Dominava La temporalità Infatti Per tacere Del resto Tanto grande Fu la pace Temporale In quel tempo Che bastò L'ordine Di un uomo Solo Per fare Il censimento Di tutto il mondo Conoscete Ormai Fratelli La persona Di colui Che viene E ambedue I luoghi Cioè Quello da cui Viene E quello A cui va Conoscete Anche la causa E il tempo Rimane Una sola cosa Cioè La via Attraverso Cui viene E anche Questa Dobbiamo Ricercarla Con attenzione Per poter Come è giusto Andargli incontro Ma come Venne Una sola volta In una carne Visibile Per realizzare La salvezza Sulla terra Così Per salvare Ogni anima Viene Ogni giorno In spirito Ed invisibile Come sta scritto Spirito è Davanti al nostro volto Cristo Signore E perché si sappia Che questa venuta Spirituale È nascosta Dice Alla sua ombra Vivremo Tra le nazioni E se un malato Non può camminare Per un tratto Troppo lungo Per andare incontro A un così grande medico È giusto Che cerchi almeno Di alzare il capo E di sollevarsi Verso colui che viene Uomo Non hai bisogno Di attraversare I mari Non di penetrare Le nubi Non di valicare I monti Ti ripeto Non ti viene mostrata Una lunga via Vai incontro Al tuo Dio Fino a te stesso Vicina è la parola Sulla tua bocca E nel tuo cuore Vagli incontro Fino alla compunzione Del cuore E alla confessione Della bocca Per uscire almeno Dall'immondezzaio Della tua misera coscienza Perché è indegno Che entri lì L'autore della purezza Tutto questo Lo diciamo A proposito Di quella venuta Con cui si degna Di illuminare Con la sua invisibile potenza Le menti di ciascuno Ci piace però Anche considerare La via Della sua venuta visibile Perché tutte le sue vie Sono belle E tutti i suoi sentieri Conducono alla pace Ecco Dice la sposa Viene balzando Per i monti Saltando Per le colline Tu vedi Colui che viene O bellissima Ma non potevi Vederlo Prima mentre riposava Hai detto Fammi vedere O amore dell'anima mia Dove vai a pascolare Dove riposi Riposando Pasce gli angeli In quelle regioni eteree Li sazia Con la visione Della sua eternità E della sua immutabilità Ma non ignorare Te stessa O bellissima Quella visione È per te meravigliosa Troppo alta E tu non puoi Comprenderla Ma ecco È uscito Dal suo luogo santo Lui Che riposando Pasce gli angeli Ha dato inizio Alla nostra salvezza E la porterà A termine E sarà veduto Mentre viene E dopo aver preso cibo Mentre prima Quando riposava E si pasceva Non era visibile Ecco Viene saltando Per i monti Balzando per le colline Per monti e colline Intendi i patriarchi E profeti E come sia venuto Saltando e balzando Leggilo nel brano Della genealogia Abramo generò Isacco Isacco generò Giacobbe Da questi monti È uscita Come trovi scritto La radice di Iesse Da lei Secondo il profeta È germogliata la verga Da questa è spuntato Un fiore Su cui ha riposato Lo spirito settiforme Lo ha manifestato Con maggior chiarezza Lo stesso profeta In un altro brano Ecco Dice La vergine Concepirà E partorirà Un figlio Che si chiamerà Emanuele Che significa Dio con noi Prima lo chiama fiore Poi Emanuele E a colei Che aveva chiamato verga Esprimendosi più chiaramente Da il nome di vergine Ma è necessario Riservare ad un altro giorno La considerazione Di questo profondissimo mistero È una materia degna Di un sermone a parte Soprattutto perché Il sermone di oggi È stato già sufficientemente lungo San Bernardo San Bernardo San Bernardo di Chiaravalle. Sermone quarto sull'Avvento. È giusto, fratelli, che il celebriate con grande devozione la venuta del Signore, inondati da tanta consolazione, stupiti da un così grande fervore e infiammati da un amore così grande. Non pensate solo a colui che è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Pensate anche a colui che verrà e ci prenderà con sé. O se vi occupaste di queste due venute con una incessante meditazione, ruminando nei vostri cuori quanto ci ha concesso nella prima e quanto ci ha promesso nella seconda. O se dormiste tranquilli tra le due. queste infatti sono le due braccia dello sposo tra le quali la sposa dormiva e diceva la sua sinistra è sotto il mio capo e la sua destra mi abbraccia. Nella sua sinistra, come leggiamo altrove, c'è la ricchezza e la gloria. Nella destra lunghi anni di vita. Nella sua ricchezza, dice, ricchezza e gloria. Figli di Adamo, stirpe, avara e ambiziosa, ascoltate, perché vi preoccupate delle ricchezze terrene e della gloria temporale che non sono né vere né vostre? L'oro e l'argento non sono forse terra rossa e bianca che solo l'errore degli uomini rende o meglio considera preziosa. E se queste sono cose vostre, portatele con voi. Ma l'uomo quando muore non porta nulla con sé e non scende con lui la sua gloria. Le vere ricchezze dunque non sono i beni di questo mondo, ma le virtù che la coscienza porta con sé per diventare ricca in eterno. Anche della gloria l'apostolo dice la nostra gloria è questa, la testimonianza della nostra coscienza. Questa è davvero la vera gloria che viene dallo Spirito di verità. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro Spirito che siamo figli di Dio. La gloria che ricevono gli uni dagli altri, coloro che non cercano la gloria che viene da Dio solo è pura apparenza, perché gli uomini sono vani. Sei stolto tu che raccogli il tuo guadagno in un sacco bucato, che metti il tuo tesoro sulla bocca di un altro. Non sai che questa è un'arca che non si chiude, che non ha battenti. Quanto sono più saggi coloro che custodiscono per sé il loro tesoro e non lo affidano ad altri. Ma lo potranno conservare sempre. Lo terranno sempre nascosto. Verrà il tempo in cui saranno manifestati i segreti del cuore. Non appariranno invece le cose che saranno state manifestate prima. Per questo alla venuta del Signore si spengono le lampade delle vergini stolte e quelli che hanno già ricevuto la loro ricompensa saranno da lui ignorati. Per questo vi dico, carissimi, se abbiamo qualcosa di buono è più utile nasconderlo che metterlo in mostra. I mendicanti, quando chiedono l'elemosina, non ostentano vesti preziose, ma membra seminude, e se ne hanno, mettono allo scoperto le piaghe, perché l'animo di chi vede sia più rapidamente piegato alla misericordia. Questa regola il pubblicano l'ha osservata molto meglio del fariseo. Per questo se ne è andato giustificato da Dio, a differenza dell'altro. È giunto il momento, fratelli, di cominciare il giudizio dalla casa di Dio. Quale sarà la fine di coloro che non obbediscono al Vangelo? Qual è il giudizio per coloro che in questo giudizio non risorgono? Quanti si rifiutano di sottomettersi al giudizio che avviene ora, in cui il principe del mondo viene gettato fuori, attendano il giudice, o meglio, lo temano. Da Lui verranno gettati fuori essi stessi, insieme al loro capo. Noi, invece, se ci lasciamo giudicare completamente ora, attendiamo sicuri come Salvatore il Signore nostro Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il corpo della nostra umiltà per configurarlo al corpo della sua gloria. Allora sì, i giusti risplenderanno, così che possano vederli i dotti e gli ignoranti insieme. Risplenderanno come il sole nel regno del loro padre. Il loro splendore sarà sette volte più del sole, cioè come la luce di sette giorni. Venendo, il Salvatore trasfigurerà il corpo della nostra umiltà, configurandolo al corpo della sua gloria, a condizione però che il corpo sia stato prima trasformato e configurato all'umiltà del cuore di Lui. Per questo, Egli diceva, imparate da me, che sono mite ed umile di cuore. Rifletti su queste parole, perché c'è una duplice umiltà, una della conoscenza, una dell'affetto. Quest'ultima è chiamata qui umiltà del cuore. Per la prima conosciamo che non siamo nulla e questa la impariamo da noi stessi e dalla nostra propria debolezza. Con la seconda disprezziamo la gloria del mondo e questa la impariamo da colui che annientò a se stesso, prendendo la forma di servo. Colui che, cercato per essere fatto re, fuggì. E cercato invece per sopportare tante cose l'ignominioso supplizio della croce, spontaneamente offrì se stesso. Se dunque vogliamo dormire tra le due eredità, cioè tra le due venute, siano argentate le nostre ali. Così da avere quella forma della virtù che ci ha raccomandato Cristo, con la parola e con l'esempio, durante la sua vita terrena. Nell'argento è bene capire la sua umanità, come nell'oro la sua divinità. La nostra virtù, perciò, è tanto lontana dalla vera virtù quanto è lontana da quella forma, e ogni nostra ala non serve a nulla se non è argentata. Una grande ala è la povertà, che vola molto rapidamente nel regno dei cieli. Nelle altre virtù che seguono, la promessa è fatta per il futuro. Alla povertà il regno non è promesso, ma è dato. Per questo è espresso al tempo presente che di loro è il regno dei cieli, mentre nelle altre si dice erediteranno, saranno consolati e simili. Ma vediamo alcuni poveri che, se avessero la vera povertà, non sarebbero così abbattuti e tristi, perché sono re e re del cielo. Ma questi sono quelli che vogliono essere poveri a condizione che non manchi loro nulla, e amano la povertà in modo da non soffrire per nessuna mancanza. Ve ne sono altri miti, ma fino a quando non si dice e non si fa nulla che contrari la loro volontà. Ma si vedrà chiaro quanto sono lontani dalla vera mansuetudine, se sorge la più lieve occasione di contrasto. Come potrà ereditare questa mansuetudine, che viene meno prima di ricevere l'eredità? Ne vedo altri che piangono, ma se quelle lacrime venissero dal cuore, non si cambierebbero così facilmente in riso. Ma quando le parole oziose e volgari scorrono più abbondanti delle lacrime di prima, non penso che lacrime simili siano di quelle a cui è promessa la consolazione divina, visto che, dopo di esse, si ammette così facilmente una consolazione di nessun valore. Altri poi si indignano con tanta vehemenza contro i peccati degli altri, che potrebbe sembrare che abbiano fame e sete di giustizia. E sarebbe così se avessero il medesimo giudizio anche a proposito dei loro peccati, ma usano per sé e per gli altri un diverso peso, e l'uno e l'altro sono un abominio presso il Signore. Ardono infatti contro gli altri con tanta impudenza e con eccesso, mentre accarezzano se stessi tanto stoltamente quanto inutilmente. Ve ne sono altri misericordiosi, ma a proposito di cose che non li riguardano, che si scandalizzano se non viene dato a tutti con abbondanza, a patto che loro stessi non vengano toccati nemmeno un poco. Se fossero misericordiosi, dovrebbero fare misericordia con quello che hanno. Se non possono farlo con i beni terreni, dovrebbero perdonare di cuore quelli che sembrano forse aver peccato contro di loro. Dovrebbero dare un gesto di dolcezza, una buona parola che è migliore di ogni dono perfetto, per provocare i loro spiriti al pentimento. Infine, dovrebbero coprirli con la compassione e la preghiera, insieme a tutti quelli di cui venissero a sapere che sono nel peccato. Altrimenti, la loro misericordia non è nulla e non ottiene nessuna misericordia. Ve ne sono ancora di quelli che confessano i loro peccati in modo tale che può sembrare che lo facciano per il desiderio di purificare il cuore. Tutto, infatti, viene lavato nella confessione, salvo il fatto che le cose che loro spontaneamente dicono agli altri non possono dagli altri ascoltarle con pazienza. Se davvero desiderassero essere purificati come sembra, non si irriterebbero, ma sarebbero grati a quanti fanno loro vedere le loro mancanze. Ve ne sono altri che, se vedono qualcuno scandalizzato anche soltanto un poco, sono molto solleciti di come possano ricondurlo alla pace e sembrerebbero pacifici se non si vedesse che sono i più difficili ad essere calmati e si mettono in pace più lentamente se qualcuno fa o dice qualcosa contro di loro. Se davvero amassero la pace, senza dubbio la cercherebbero per se stessi. Copriamo, fratelli, dunque d'argento le nostre ali, nella vita di Cristo, come i santi martiri hanno lavato le loro vesti nella sua passione. Imitiamo, per quanto ci è possibile, colui che così ha amato la povertà, che anche se aveva in suo potere tutti i confini della terra, tuttavia non aveva dove posare il capo. Ricordiamo come i discepoli che lo seguivano spinti dalla fame sgranavano le spighe in mano mentre passavano per i campi. Egli come una pecora fu condotto al macello e come un agnello senza voce davanti a chi lo tosa non aprì la sua bocca. Sappiamo che pianse sul Lazzaro e sulla città e che passava le notti intere in preghiera, ma non leggiamo mai che abbia riso o giocato. Ebbe tanta sete della giustizia che, senza avere peccati propri, richiese da se stesso una soddisfazione così grande per i nostri peccati. Sulla croce aveva sete soltanto della giustizia. Lui che non esitò a morire per i nemici e pregò per quelli che lo crocifigevano. Lui che non fece peccato ed ascoltò con pazienza quelli che gli attribuivano gli altri. Lui che per riconciliare a sé i peccatori soffrì tanto. Lui che non è un po' di nonostra, ma non è un po' di nonostra, ma non è un po' di nonostra. San Bernardo di Chiaravalle Sermone quinto sull'Avvento L'Avvento intermedio e il triplice rinnovamento Abbiamo finito di dire che coloro che hanno argentato le loro ali devono dormire tra le due eredità, cioè tra le due venute. Ma non abbiamo detto dove debbano dormire. C'è una terza venuta, intermedia tra le due, dove dormono piacevolmente quelli che la conoscono. Le prime due sono manifeste, non così questa. Nella prima venuta Cristo apparve sulla terra e visse tra gli uomini quando, come egli stesso testimonia, lo videro e lo odiarono. Nell'ultima tutti vedranno la salvezza del nostro Dio e fisseranno lo sguardo su colui che hanno trafitto. La venuta intermedia è nascosta. Solo gli eletti lo vedono in se stessi e le loro anime si salvano. Nella prima venuta dunque venne nella carne e nella debolezza. In questa intermedia viene nello spirito e nella potenza. Nell'ultima viene nella gloria e nella maestà. Attraverso l'efficacia della virtù, infatti, si giunge alla gloria, perché il Signore delle virtù è il re della gloria. E altrove lo stesso profeta dice ancora, per vedere la tua potenza e la tua gloria. Questa venuta intermedia è la via attraverso la quale giungiamo dalla prima all'ultima. Nella prima Cristo fu la nostra redenzione. Nell'ultima si rivelerà come nostra vita. In questa, perché possiamo dormire tra le due eredità, è il nostro riposo e la nostra consolazione. Ma perché non ci sia nessuno che creda che quanto diciamo a proposito di questa venuta intermedia è una nostra trovata, ascoltate lui stesso. Se qualcuno mi ama, dice, custodirà le mie parole e il mio padre lo amerà e noi verremo a lui. Che cosa significa se qualcuno mi ama custodirà le mie parole? Altrove leggi, colui che teme Dio opera il bene. Ma sento che è detto qualcosa di più a proposito di colui che ama. Perché custodirà le parole? Ma dove le custodisce? Sicuramente nel cuore, come dice il profeta, ho nascosto nel mio cuore le tue parole per non peccare contro di te. Ma come devono essere custodite nel cuore? Non è sufficiente custodirle nella memoria. Di chi le custodisce così, l'Apostolo dice che la scienza gonfia. Infine, la dimenticanza finalmente cancella anche la memoria. Custodisci la parola di Dio come se fosse il modo migliore di custodire il cibo del tuo corpo. La parola di Dio è pane vivo e alimento dello spirito. Il pane materiale, finché è conservato nella madia, può essere rubato da un ladro, può essere rosicchiato da un topo, può essere guastato dal passare del tempo. Ma quando l'hai mangiato, quale di queste cose devi temere? Custodisci in questo modo la parola di Dio. Beati infatti coloro che la custodiscono. Falla entrare nelle viscere della tua anima. Passi nei tuoi affetti e nei tuoi costumi. Mangia il bene e la tua anima ne troverà gioia e consistenza. Non dimenticare di mangiare il tuo pane, perché il tuo cuore non si inaridisca, ma la tua anima si sazi di grasso e di cibo sostanzioso. Se custodisci così la parola di Dio, sicuramente sarai da lei custodito. Il figlio verrà a te insieme con il padre. Verrà il grande profeta che rinnoverà Gerusalemme e farà nuove tutte le cose. Questa è l'efficacia di questa venuta che, come abbiamo portato l'immagine dell'uomo terreno, così porteremo l'immagine dell'uomo celeste. E come il vecchio Adamo invase l'uomo intero e dominò la totalità della persona umana, così Cristo vuole recuperarlo tutto intero. Lui che tutto intero l'ha creato, tutto intero l'ha giorno di sabato. Viveva un tempo in noi l'uomo vecchio. Quel ribelle era in noi, sia nella mano che nella bocca, che nel cuore. Nella mano in due modi, nelle azioni cattive e ingiuriose. Ed era nel cuore attraverso i desideri della carne e i desideri della gloria mondana. Ma ora, se c'è in lui un'umanità nuova, le cose vecchie sono passate. E invece delle azioni cattive, nella mano c'è l'innocenza. E nella bocca, invece delle ingiurie fatte per mezzo della detrazione e dell'arroganza, c'è la continenza. Sulla bocca, invece dell'arroganza, c'è la parola della confessione. Invece della detrazione, c'è la parola di edificazione, perché si allontani ciò che è vecchio dalla nostra bocca. Nel cuore, poi, invece dei desideri della carne, c'è la carità e c'è l'umiltà, invece della gloria mondana. E vedi se in queste tre cose, cuore, mano, bocca, gli eletti non ricevano il Cristo, parola di Dio. Di queste è stato scritto, mettimi come sigillo sul tuo braccio, come sigillo sul tuo cuore. E altrove, vicina è la parola, è sulla tua bocca e nel tuo cuore. Prodame, c'è l'umiltà, è la tua bocca e nel tuo cuore. San Bernardo di Chiaravalle, sermone secondo sull'Avvento. La lettura di Isaia, disse «Se il Signore è ad Akaz, chiedi per te un segno». Abbiamo ascoltato Isaia cercare di persuadere il re Akaz a chiedere un segno dal Signore o nel profondo degli inferi o nell'alto dei cieli. Abbiamo ascoltato la sua risposta, che ha un'apparenza di pietà, ma non ne ha la sostanza. Perciò alla fine ha meritato il rimprovero di colui che scruta il cuore e davanti a cui si svela ogni pensiero dell'uomo. «Non chiederò alcun segno», dice, «e non tenterò il Signore». Akaz si era inorgoglito per l'altezza del trono regale ed era astuto nelle parole secondo la sapienza umana. Il Signore aveva dunque detto ad Isaia «Va, dia quella volpe che chieda per sé un segno dal Signore nel profondo». La volpe infatti ha una tana profonda, ma se anche scendesse nell'inferno, lì c'è chi sa prendere i sapienti al laccio della loro astuzia. E ancora «Va, dice il Signore, dia quell'uccello che chieda per sé un segno nell'alto, da sopra». L'uccello ha infatti un nido, ma se anche salisse in cielo lì c'è colui che resistendo ai superbi schiaccia con la propria potenza l'orgoglio dei superbi e degli orgogliosi. Ma ad Akaz non interessa chiedere un segno del potere eccelso o di una sapienza di incomprensibile profondità. E per questo il Signore stesso promette un segno di bontà alla casa di Davide, cosicché coloro che non erano stati spaventati né dalla potenza né dalla sapienza vengano almeno attirati dalla dimostrazione della carità. Nell'espressione nel profondo degli inferi possiamo anche intendere con ragione la stessa carità. Nessuno ha avuto una più grande carità, tanto da scendere negli inferi morendo per gli amici. Ad Akaz viene allora comandato o di temere la maestà di colui che regna nell'alto dei cieli o di abbracciare la carità di colui che scende negli inferi. È di peso non soltanto agli uomini ma anche a Dio colui che non pensa alla maestà con timore e neppure medita con amore la carità. Perciò, dice il Signore stesso, vi darà un segno in cui si farà conoscere chiaramente la maestà e la carità. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio e sarà chiamato Emanuele che significa Dio con noi. Non fuggire, Adamo, perché Dio è con noi. Non temere, uomo, e non spaventarti all'udire del nome di Dio perché Dio è con noi. Con noi nella somiglianza della carne. Con noi, per il nostro bene. È venuto per noi, come uno di noi, simile a noi, capace di soffrire. Infine, dice, mangerà burro e miele. Come se dicesse, sarà un bambino e si nutrirà del cibo dei bambini, fino a che imparerà a rigettare il male e a scegliere il bene. Anche qui senti parlare di bene e di male, come a proposito dell'albero proibito, come dell'albero del peccato. Ma questo secondo Adamo fa la sua scelta molto meglio del primo. Scegliendo infatti il bene respinge il male, non come colui che ama la maledizione e questa viene su di lui. E non vuole la benedizione e questa si allontana da lui. Dalle parole precedenti, infatti, mangerà burro e miele. Puoi renderti conto della scelta che farà questo bambino. Che la sua grazia ci accompagni, perché quello che fa possiamo sperimentarlo in qualche modo anche noi ed esprimerlo in modo accessibile a tutti. Due cose si possono fare con il latte di pecora, cioè il burro e il formaggio. Il burro è grasso e tenero, il formaggio invece è arido e duro. Sa scegliere bene dunque il nostro bambino che mangiando il burro non mangia il formaggio. Qual è dunque la centesima pecora che si smarrì e che dice nel Salmo come pecora smarrita vado errando? E' proprio il genere umano che il pastore, pieno di bontà, cerca, lasciando le altre 99 pecore sui monti. Due cose troverai in questa pecora. Una natura dolce, una natura buona, tanto buona come di burro. Vedi dunque come ha scelto bene il nostro bambino. Ha assunto la nostra natura senza alcuna corruzione di peccato. Infatti dei peccatori leggi il loro cuore si è rappreso come il latte. In loro il fermento della malizia, il caglio dell'iniquità, ha corrotto la purezza del latte. Così anche l'ape ha la dolcezza del miele e ha anche la puntura del pungiglione. È l'ape che si nutre tra i gigli, che abita la patria fiorita degli angeli. Da lì ha volato fino alla città di Nazareth, che significa fiore, ed ha raggiunto il fiore profumato della perpetua verginità. Vi si è posato, vi ha aderito. Colui che con il profeta canta la sua misericordia e il suo giudizio non ignora il miele e il pungiglione di quest'ape. Ma venendo a noi ha portato solo il miele e non il pungiglione, cioè la misericordia e non il giudizio. Per questo, quando i discepoli cercavano di persuaderlo perché fosse consumata dal fuoco la città che non aveva voluto accoglierlo, rispose che il figlio dell'uomo non era venuto per giudicare, ma per salvare il mondo. La nostra ape non ha pungiglione. In un certo senso lo ha deposto quando, sopportando tante ingiurie, ha dimostrato la misericordia e non il giudizio. Ma non vogliate sperare nell'iniquità, non peccate, abusando della fiducia. La nostra ape potrà un giorno riprendere il suo pungiglione e infliggerlo con tutta la forza nelle midolla dei peccatori, perché il padre non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al figlio. Per ora il nostro bambino mangia burro e miele, avendo unito in se stesso il bene della natura umana con quello della misericordia divina. Per essere uomo vero e senza peccato, Dio misericordioso e non giudice. Penso che da queste cose appaia chiaramente chi sia quella verga che spunta dalla radice di Iesse e chi sia il fiore sopra cui riposa lo Spirito Santo, poiché la verga è la vergine madre di Dio, il fiore è suo figlio. Fiore davvero è il figlio della vergine. Fiore bianco e vermiglio, scelto tra mille. Fiore in cui gli angeli desiderano fissare lo sguardo, fiore al cui profumo rivivono i morti. Come egli stesso testimonia, è fiore di campo e non di giardino. Il campo infatti fiorisce senza alcun intervento umano. Non è seminato da nessuno, non è lavorato dalla zappa, non è ingrassato da concime. Così, proprio così, è fiorito il grembo della vergine. Così le viscere inviolate, integre e caste di Maria, come pascoli eternamente verdeggianti, hanno prodotto questo fiore, la cui bellezza non è destinata a vedere la corruzione, la cui gloria non marcirà in eterno. O vergine, verga sublime, fino a quale sublime altezza innalzi la tua santa cima, fino a colui che siede sul trono, fino al Signore della Maestà. E non c'è da meravigliarsi, perché getti profonde radici nell'umiltà o pianta autenticamente celeste, più preziosa di tutte, superiore a tutte in santità. O vero albero di vita, che solo sei stato degno di portare il frutto della salvezza. È stata scoperta, o malvagio serpente, la tua astuzia. È stata messa completamente a nudo la tua falsità. Due cose avevi attribuito al Creatore. Lo avevi infamato con un'accusa di menzogna e di invidia. Nell'una e nell'altra accusa è stato provato che hai mentito, perché fin dall'inizio muore colui al quale avevi detto non morirai mai. E la verità del Signore rimane in eterno. Ma ora rispondi, se puoi. Quale albero? Il frutto di quale albero potrebbe provocare l'invidia di colui che non ha negato all'uomo neppure questa verga scelta e il suo frutto sublime. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio. Come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? Ma vi siete già accorti, se non mi sbaglio, che la Vergine stessa è la via regale che percorreva il Salvatore per venire a noi, uscendo dal suo grembo come uno sposo dal suo talamo. Conoscendo dunque la via che, se vi ricordate, abbiamo cominciato a investigare nel primo sermone, cerchiamo anche noi, carissimi, di salire fino a Lui per mezzo di Lei e di arrivare, tramite Lei, alla grazia di chi, per suo mezzo, è venuto nella nostra miseria. Per te abbiamo accesso al Figlio, o benedetta scopritrice della grazia, genitrice della vita, madre della salvezza. Per mezzo tuo ci accolga colui che per tuo mezzo è stato dato a noi. La tua carità scusi presso di Lui, la colpa della nostra corruzione, e la tua umiltà, gradita a Dio, ottenga il perdono della nostra vanità. L'abbondanza della tua carità copra la moltitudine dei nostri peccati, e la tua gloriosa fecondità ci conferisca la fecondità delle buone opere. Signora nostra, mediatrice nostra, avvocata nostra, riconciliaci al tuo figlio, raccomandaci al tuo figlio, presentaci a tuo figlio. Fa, o benedetta, per la grazia che hai ricevuto, per il privilegio che hai meritato, per la misericordia che hai guadagnato, fa che per mezzo tuo, colui che si è degnato di partecipare alla nostra debolezza infermità, ci renda, per tua intercessione, partecipi della sua gloria e della sua felicità. Gesù Cristo, tuo figlio e nostro Signore che è Dio, benedetto nei secoli, al di sopra di tutte le cose. San Bernardo di Chiaravalle Sermone terzo per l'Avvento Le sette colonne Celebrando la venuta del Signore, se guardo la persona di colui che viene, non arrivo a comprendere l'eccellenza della sua maestà. Se guardo a coloro dai quali viene, rimango spaventato per la grandezza della sua condiscendenza. Si stupiscono certamente anche gli angeli di questa novità, vedendo sotto di sé colui che sempre adorano sopra di sé e ormai, in modo evidente, salgono e scendono presso il figlio dell'uomo. Se considero il motivo della sua venuta, abbraccio, per quanto mi è possibile, la grandezza inestimabile della sua carità. Se penso al modo, constato l'esaltazione della condizione umana. Viene il Creatore e Signore del mondo, viene agli uomini, viene per gli uomini, viene uomo. Ma qualcuno dirà, come si può dire che sia venuto colui che è sempre stato dappertutto? Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di Lui, ma il mondo non lo riconobbe. Non è dunque venuto uno che era presente, ma è apparso uno che rimaneva nascosto. Per questo ha rivestito la forma umana, per potervi essere riconosciuto Lui che nella forma divina abita la luce inaccessibile. E non era cosa indegna della gloria della maestà apparire nella forma della sua stessa somiglianza, che fin dall'inizio aveva creato. Non era indegno di Dio manifestarsi nella sua immagine a coloro dai quali non avrebbe potuto essere riconosciuto nella sua sostanza, cosicché colui che aveva creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, fatto uomo egli stesso, si facesse conoscere agli uomini. La Chiesa universale celebra una volta all'anno la solenne memoria della venuta di una così grande maestà, di una così grande umiltà, di una così grande carità e di tanta nostra glorificazione. Se questa celebrazione, fatta una volta sola, durasse per sempre, sarebbe la cosa più giusta. Che grande follia che dopo la venuta di un re così grande gli uomini vogliano occuparsi in qualsiasi altro tipo di affare e non si dedichino piuttosto, lasciando perdere tutte le altre cose, al solo culto di Lui. E perché in Sua presenza non si dimenticano di tutte le altre cose? Ma non è di tutti ciò che dice il profeta e ruttano la memoria dell'abbondanza della Tua dolcezza. Non tutti si alimentano a questa memoria. Ma nessuno può eruttare quello che non ha gustato e neppure quello che si è accontentato solamente di gustare. Il rutto, infatti, non viene se non dalla pienezza e dalla sazietà. Per questo, coloro che hanno una vita e una mentalità mondana, anche se celebrano questa memoria, non ne eruttano. Perché osservano questi giorni senza devozione e senza affezione, per una certa arida consuetudine. E infine, e questo è più riprovevole, la memoria di questa misericordia diventa un'occasione per la carne. Li potresti vedere in questi giorni tanto solleciti a preparare vesti sontuose e cibi delicati, come se Cristo, nella Sua nascita, cerchi queste cose e cose simili a queste, e come se venga accolto più devotamente dove simili cose vengono preparate con maggior cura. Ma ascolta lui stesso dire, Non prenderò cibo insieme a un occhio superbo e a un cuore insaziabile. Perché con tanto sfarzo prepari le vesti in occasione della mia nascita? Io detesto l'ostentazione, non la amo. Perché in questo tempo, poi, tanta attenzione nell'abbondanza dei cibi? Io condanno i piaceri del corpo, non li accetto. Hai davvero un cuore insaziabile che prepara così tante cose e perdendo tanto tempo, mentre il corpo ha bisogno veramente di molte poche cose e che possano essere trovate più facilmente. Celebrando dunque la mia venuta, mi onori con le labbra, ma il tuo cuore è lontano da me. Non rendi culto a me, ma tuo Dio è il tuo ventre e ti vanti di quello di cui dovresti vergognarti. Completamente infelice colui che si dedica ai piaceri del corpo e alla vanità della gloria mondana. Beato invece il popolo il cui Dio è il Signore. Fratelli, non addiratevi con gli empi e non invidiate i malfattori. Comprendete piuttosto qual è il loro destino e abbiate compassione di loro, di cuore, e pregate per quelli che sono sorpresi nel peccato. Questi miserabili si comportano così perché ignorano Dio. infatti se lo conoscessero non avrebbero mai provocato con tanta stoltezza contro di sé il Signore della gloria. Ma noi, carissimi, non abbiamo la scusa dell'ignoranza. Chiunque tu sia sicuramente lo conosci e se dicessi che non lo conosci saresti come gli uomini mondani, bugiardo. Infine, se non lo conosci, chi ti ha condotto qui o come sei venuto qui? Altrimenti come è stato possibile convincerti a rinunciare spontaneamente all'affetto delle persone care, ai piaceri della carne, alla vanità del mondo e gettare ogni tuo pensiero nel Signore e affidare ogni preoccupazione a Lui da cui testimone la tua coscienza non avresti meritato nessun bene, anzi, tanto male. Ripeto, chi avrebbe potuto persuaderti a questo se tu non avessi conosciuto che il Signore è buono con quanti sperano in Lui, con l'anima che lo cerca, se non avessi conosciuto anche tu che il Signore è dolce e mite ed è di grande misericordia ed è fedele. E da dove poi hai conosciuto questo se non perché è venuto non solo a te, ma anche in te? Conosciamo infatti una sua triplice venuta agli uomini, negli uomini e contro gli uomini. È venuto a tutti senza alcuna condizione, non così in tutti o contro tutti. Ma poiché la prima e la terza venuta sono conosciute perché manifeste, a proposito della seconda, ascolta il Signore che dice Beato colui presso il quale tu prendi dimora, Beato colui nel quale la sapienza si costruisce una casa intagliando sette colonne. Beata l'anima che è trono della sapienza. E chi è questa? Sicuramente l'anima del giusto e con ragione, perché giustizia e giudizio sono la base del tuo trono. Chi tra di voi, fratelli, desidera preparare nella sua anima un trono per Cristo? Ecco quali drappi di seta, quali tappeti, quali cuscini è necessario preparare. Giustizia e giudizio sono la base del suo trono. La virtù della giustizia consiste nel dare a ciascuno il suo. Perciò distribuisci a queste tre categorie ciò che appartiene loro. Dà al superiore, dà all'inferiore, dà all'eguale a ciascuno ciò che devi. Allora celebrerai degnamente la venuta di Cristo, preparandone la giustizia e il suo trono. Dà, insisto, riverenza e obbedienza al superiore. La prima come disposizione del cuore, l'altra del corpo. E non è sufficiente obbedire esteriormente ai nostri superiori se non abbiamo nell'intimo affetto del cuore un alto concetto di loro. E se anche conosciamo la vita chiaramente indegna di qualche superiore, tanto da non ammettere possibilità di dissimulazione né di scusa, dobbiamo avere un alto concetto anche di Lui a motivo di colui dal quale deriva ogni potere, non per i meriti presenti nella persona, ma per deferenza al piano divino e alla dignità inerente a quel compito. Ugualmente, rispetto ai nostri fratelli fra i quali viviamo, siamo tenuti a prestare consiglio e aiuto per un identico diritto di fraternità e di solidarietà umana. Noi, infatti, vogliamo che essi rendano a noi gli stessi servizi, il consiglio che istruisca la nostra ignoranza e l'aiuto che sostenga la nostra debolezza. Ma forse ci sarà tra di voi qualcuno che, in silenzio, darà questa risposta. Che consiglio posso dare io al fratello a cui non posso rivolgere neppure una parola senza permesso? Che aiuto posso offrire dal momento che non mi è lecito fare neppure la minima cosa al di fuori dell'obbedienza? A questo rispondo Non ti mancherà certo che cosa fare, a patto che non venga meno la carità fraterna. Non penso che ci sia un consiglio migliore dello sforzarsi di insegnare a tuo fratello con l'esempio che cosa bisogna e che cosa non bisogna fare, provocandolo al meglio e consigliandolo non con le parole né con la lingua. Ma con i fatti e nella verità. E c'è forse un aiuto più utile e più efficace del pregare con fervore per lui e di non trascurare di riprendere le sue colpe. In questo modo non gli dai nessun motivo di inciampo, ma nella misura del possibile ti preoccupi, come messaggero di pace, di togliere gli scandali dal regno di Dio e di rimuovere dal profondo le occasioni di scandalo. Se ti comporti con il tuo fratello da umile consigliere e collaboratore, gli rendi quello che devi e lui non ha motivo di lamentarsi. se poi sei superiore di qualcuno, senza dubbio sei tenuto ad essergli debitore di una più grande sollecitudine. Anche chi è inferiore esige da te custodia e disciplina. La custodia perché possa guardarsi dal peccato. La disciplina perché non rimanga impunito quello che non ha potuto evitare. E anche se ti pare di non essere superiore di nessun fratello, hai sotto di te qualcuno cui è necessario offrire questa custodia e questa disciplina. parlo del tuo corpo che il tuo spirito ha ricevuto per governarlo. Gli devi custodia perché in lui non regni il peccato e le tue membra non diventino armi di ingiustizia. Gli devi anche disciplina perché mortificato e sottomesso al tuo servizio porti degni frutti di penitenza. Ma sono vincolati da un debito molto più grave e pericoloso coloro che devono rendere conto di molte anime. Che cosa farò io, miserabile, se mi avverrà di costudire con troppa negligenza un tesoro così grande questo prezioso deposito che Cristo ha giudicato più prezioso del proprio sangue? se avessi raccolto il sangue del Signore che stillava dalla croce e l'avessi conservato presso di me e riposto in un vaso di cristallo che fosse necessario trasportare spesso che stato d'animo avrei avuto io in una situazione così rischiosa? e certamente io ho ricevuto per conservarlo un deposito prezioso per il quale un mercante non stolto cioè la stessa sapienza ha dato qual sangue ma io posseggo questo tesoro in vasi di creta che sono molto più esposti al rischio dei vasi di cristallo a questo cumulo di preoccupazioni si aggiunge anche il peso del timore dal momento che devo custodire la mia coscienza e quella del prossimo e che non conosco a sufficienza nell'una nell'altra ambe due sono un abisso imperscrutabile una notte per me eppure si esige da me la custodia dell'una e dell'altra e si esclama sentinella che cosa c'è nella notte sentinella che cosa c'è nella notte io non posso dire con Caino sono forse io il custode di mio fratello ma piuttosto devo confessare con il profeta se il signore non custodisce la città in vano vigila colui che la difende tuttavia lo si potrà scusare soltanto se come ho detto prima offro insieme la dovuta custodia e la disciplina e se non sono mancate le quattro condizioni precedenti parlo della riverenza e dell'obbedienza verso i superiori del consiglio e dell'aiuto verso i fratelli condizioni che riguardano la giustizia la sapienza troverà un trono preparato e queste sembra che siano le sei colonne che la sapienza ha tagliato nella casa che si è costruita dobbiamo cercare anche la settima se forse la sapienza si degnerà di farcela conoscere che cosa impedisce che mentre le sei colonne significano la giustizia la settima significhi il giudizio non si parla solo della giustizia ma giustizia e giudizio sono la base del tuo trono e infine se rendiamo ciò che bisogna rendere ai superiori agli uguali e agli inferiori Dio non riceverà nulla ma a Lui nessuno può rendere quello che deve poiché ha riversato con tanta abbondanza la sua misericordia su di noi che tanto lo abbiamo offeso che siamo così fragili anzi non siamo nulla mentre Egli nella sua pienezza basta a se stesso e non ha bisogno di tutti i nostri beni tuttavia ho sentito dire a uno a cui Dio ha rivelato i segreti nascosti della sua sapienza che l'onore del Re ama il giudizio per quanto lo riguarda Egli non esige da noi nulla di più se soltanto confessiamo i nostri peccati perché ci possa giustificare gratuitamente perché trionfi la grazia Egli infatti ama l'anima che riflette su se stessa sempre alla sua presenza e che si giudica senza nascondersi e questo giudizio lo esige a nostro vantaggio perciò se ci giudichiamo da noi stessi non saremo giudicati per questo il sapiente non si fida di tutte le sue opere le scruta le esamina tutte le giudica onora la verità colui che conosce con verità e confessa con umiltà se stesso e tutte le sue cose nello stato in cui sono davanti alla verità ascolta infine come più chiaramente ti viene richiesto il giudizio dopo la giustizia quando avrete fatto tutte le cose che vi sono state comandate dite siamo servi inutili questo è veramente nell'uomo un trono degno una base per il Signore della Maestà cercare di osservare i comandi della giustizia e giudicarsi sempre indegno e inutile e inutile inutile il giudice e inutile e inutile Grazie a tutti.